Con una grande voce italiana che si sta facendo onore in tutto il mondo, con un'interpretazione davvero straordinaria di un capolavoro del maestro Ennio Morricone. Fossi in voi qui, ma anche in voi a casa, non me la perderei. Giorgia Fumanti, da parte mia grazie a tutti, un buonanotte e al prossimo anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.